Salve a tutti ragazzi, sono N2001 Oggi ci troviamo qui con una grande notizia Vi sto per presentare oggi Qua il mio clan che è stato appena creato Si chiama Youtubersita Attualmente siamo soltanto in due Io e Francesco Pro X Che mimetizzato con Killer Francesco Fa finta Qua citiamo persone che sono come minimo 2200 di trofei E persone molto attive Ovviamente qua, lo ripeto, è stato appena creato Quindi il baule non è stato fatto Capitemi, ok? Vi aspetto numerosi in questo clan Vi prego di entrare e partecipare Dove sicuramente ci divertiremo Iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati di questo clan E mi raccomando, ci vediamo al prossimo episodio di Crash Royale Ciao ciao!